Ciao a tutti, sono Dale, sono un artista contemporaneo. Questo momento molto complesso ha spinto anche noi artisti a dover rivedere le nostre modalità di creazione e proprio da qua è nato lo spunto per realizzare l'opera d'arte più lunga del mondo. Quindi quest'opera verrà installata al termine dell'estate sul lungomare della Versiglia e che cosa rappresenterò? Rappresenterò una serie di arcobaleni che si susseguono in un viaggio all'interno dei colori e questo perché l'arcobaleno rappresenta il colore della pace, rappresenta il colore della cultura e il colore dell'inclusione. Ma insomma in questi mesi ci siamo abituati a vedere l'arcobaleno fuori dai terrazzi, dai balconi delle nostre case con sopra la scritta andrà tutto bene e questo è proprio uno dei grandi messaggi che l'opera vuole trasmettere. Quindi un incitamento alla fiducia, all'ottimismo nonostante il momento particolarmente complesso e difficile che stiamo vivendo. Parte di quest'opera verrà donata all'Associazione Colori per la Pace che ha l'obiettivo di portare in giro per il mondo i disegni di bambini provenienti da 115 nazioni e 5 continenti che trattano appunto questo tema. quindi diciamo avrò il piacere di poter affiancare le opere dei bambini in questo diciamo tour per le principali organizzazioni mondiali e luoghi di attrazione potendo sostenere appunto la pace, la cultura e soprattutto anche l'arte italiana in un'opera che non è mai stata realizzata prima.